Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Vanessa, io ora sono ovviamente agevolato dopo l'apertura della nostra portavoce Vanessa Pallucchi, gli interventi di Luca e di Francesca nella possibilità ecco di cogliere questa occasione per fare alcune considerazioni, un breve focus all'interno ovviamente della cornice ampia del nostro appello alle forze politiche, ai candidati alle prossime elezioni europee sui temi più specifici dello sport, dello sport sociale, un ambito di attività e di intervento in cui si trova ad operare come sappiamo bene di fatto un terzo dei sodalizi del terzo settore del non profita ampio del nostro paese, organizzati in corpi intermedi, in reti associative che rappresentano una credo fondamentale risorsa sociale, uno sport che può essere sempre di più protagonista ritengo nei cambiamenti epocali, in atto nel sostenere, nell'accompagnare un nuovo sviluppo al servizio delle persone, nell'includere, nel promuovere coesione delle nostre comunità, sostenibilità ambientale, economica e sociale, solidarietà, convivenza civile, pace, oltre che evidentemente a migliorare partecipazione e la stessa democrazia. Il recente riconoscimento del valore educativo, sociale, di promozione, del benessere psicofisico, dell'attività sportiva in tutte le sue forme, che è entrato con questo nuovo importante comma dell'articolo 33 in Costituzione, ci affida senza dubbio nuove responsabilità nel continuare a contrastare quelli che, nonostante importanti passi in avanti si siano compiuti, restano ancora pregiudizi, diciamo così, antisportivi della cultura, di parte della politica del nostro paese, nel considerare ancora, ecco, l'attività sportiva, l'attività fisica come, diciamo, un mero disimpegno, un esclusivo piacere individuale, una mera occupazione dopo lavoristica e non invece come uno degli elementi, come noi crediamo, che appartengono a veri e propri progetti ormai di vita, di decine di milioni di cittadini e di cittadini, di ogni età, crediamo indispensabile per promuovere, per contribuire a promuovere veri diritti di cittadinanza, salute, un welfare che sia sempre più generativo, che è benessere di comunità, che è contrasto a disuguaglianza e a povertà. Ecco che allora anche uno sport, visto nella sua dimensione economica, sta dimostrando di poter creare anche nuove opportunità lavorative, sta dimostrando di saper stimolare nuove attività anche di tipo imprenditoriale, attraverso anche la valorizzazione di processi di innovazione sociale e tecnologica. Su questo, ecco, mettiamo a disposizione il percorso avviato a suo tempo proprio con e all'interno del forum nazionale del terzo settore, grazie anche alla condivisione di alcuni parlamentari europei, delle parti sociali, sindacali e datoriali, insieme a Pietro Barbieri, vicepresidente del gruppo 3 del CESE, relatore del parere di iniziativa, con il supporto di Vincenzo Manco, in qualità di esperto, responsabile del centro studio WISP, che ha condotto all'approvazione nel marzo del 2022, appunto da parte del Comitato Economico Sociale Europeo, del parere di propria iniziativa, l'azione dell'Unione Europea per il periodo post-covid-19, migliorare la ripresa attraverso lo sport, con cui CESE ha sollecitato e sollecita l'Unione Europea a rendere più visibili nella politica comunitaria proprio i valori che lo sport e l'attività fisica rappresentano, garantendo loro piena dignità al pari delle altre politiche europee. Quindi non solo politiche di coesione, ma un vero e proprio, lo definiamo, percorso di emancipazione, ovvero la visione di una vera e propria transizione sportiva, l'abbiamo così definita, che valorizzi significativamente l'impatto prodotto sulla salute, sul benessere delle persone, sulla qualità della vita, attraverso un necessario nuovo approccio, diciamo, strategico nella costruzione di una società che sia più resiliente e sostenibile, pienamente integrato nelle strategie di sviluppo economico e sociale, intrecciando quindi legami che siano intersettoriali e che siano legami sempre più ampi. Velocemente, schematicamente, vado a concludere con quelli che sono le raccomandazioni del Comitato Economico Sociale Europeo, in sintesi. La richiesta di includere il tasso di deprivazione sportiva, ovvero il tasso di esclusione dalla fruibilità di un bene necessario, il diritto in questo caso della pratica sportiva, nell'elenco degli indici di euro state per misurare la deprivazione materiale, la possibilità di rendere accessibili al settore sportivo tutti i finanziamenti dell'Unione Europea, considerando lo sport e l'attività fisica come un investimento per il benessere individuale e collettivo delle nostre comunità, prevedere un aumento della quota dell'importo totale dei finanziamenti destinati allo sport e alla cooperazione intersettoriale, compreso quindi lo sport nel programma Erasmus+, con anche l'auspicio di una maggiore redistribuzione equa delle risorse tra lo sport agonistico di alta prestazione e quello di promozione sociale e su questo punto sappiamo quanta strada ci sia ancora da percorrere all'interno del sistema sportivo e del sistema normativo italiano. E poi ancora sviluppare piani per assistere soprattutto all'attività sportiva di base in caso di crisi ed emergenze, l'emergenza pandemica ce lo ha insegnato e in ultimo favorire il sostegno delle reti di cittadinanza attiva nella realizzazione proprio di tali obiettivi a livello locale attraverso partenariati, coprogrammazione, coprogettazione tra politiche pubbliche e reti al fine diciamo di attivare forme di innovazione sociale valorizzando le pratiche già esistenti, le esperienze di amministrazione condivisa e di sussiderietà circolare. E questo parere d'iniziativa del CES è il primo, lo sottolineiamo, sui temi dello sport e della cultura motoria di essere stato promosso da organizzazioni della società civile ha però evidentemente bisogno di essere recepito, ha bisogno di essere attuato e resta oggi in attesa di direttive e di linee guida da parte dell'Unione Europea. L'occasione ecco di oggi era davvero importante per sottolinearlo. Grazie dell'attenzione.